Emissioni di CO2 e caldo estremo. In questo video sorprendente della NASA vediamo la Terra che viene avvolta da i gas serra visualizzando i dati dell'anno 2021 in questa affascinante simulazione. In questo video della NASA si nota come le attività umane sono molto pervasive, infatti le emissioni di gas serra da parte dell'umanità è superiore a 120 volte di quella naturale emessa da tutti i vulcani del mondo e si può ben vedere in questo video come soprattutto nei paesi dell'emisfero nord, quelli che sono più sviluppati dal punto di vista industriale e quindi anche i maggiori produttori di gas inquinanti, come questo si accumula man mano in atmosfera. I diversi colori mostrano diversi dati, ad esempio è visualizzato in arancione l'anidride carbonica generata dalla combustione di combustibili fossili, che sono quindi la maggior parte delle emissioni globali. Poi in rosso vediamo invece la produzione di anidride carbonica prodotta dalla combustione di biomassi, quindi dagli incendi delle foreste, e i colori in blu e in verde sono rispettivamente gli assorbimenti di questi gas serra da parte degli oceani e delle terre emerse. Vedete che alla fine di un anno il bilancio è terribilmente positivo nei confronti dell'accumulo di gas serra in atmosfera. Quest'emissione in atmosfera è cumulativo e ogni anno l'emissione di gas serra in atmosfera è maggiore di quella che la biosfera riesce a rimuovere e questo lo sta causando una rapida accelerazione dei cambiamenti climatici. Se vi è piaciuto questo video potete trovarne altri sul mio canale youtube e su miei pagine social prof. Antonio Lugliacono. Grazie.